Franco Vitossi sei un pochino camaiorese da adozione, gran parte dell'estate la vai a vivere là, cosa ne pensi da detto lavori, da ex ciclista di questo cambiamento di data tu che conoscerai sicuramente anche i problemi a cui è legato questa variazione nel calendario internazionale è una cosa nuova, di solito il camaiore veniva sempre nel periodo caldo di agosto sotto certi aspetti esaminando un po' la situazione magari di agosto poteva essere più complicato avere tanti partecipanti ma potevano mancare uomini di primo piano con lo spostamento a febbraio sicuramente la gara acquisterà maggiore importanza per quanto riguarda il numero di partecipanti e corridori di peso quindi la corsa sicuramente avrà un successo e sarà più importante dal lato agonistico ovviamente risponde anche a una nuova politica legata al turismo che vuole lanciare l'amministrazione comunale di Camaiore un turismo non solo estivo ma a 365 giorni all'anno tornando invece sulla tematica sul percorso una lieve riduzione ma ci sarà sempre sei volte da affrontare il Montepitero insomma Camaiore non si vince per caso no il percorso anche sarà qualche giro in meno ma lo spettacolo sarà assicurato le difficoltà sono le stesse quindi sicuramente è una gara importante in cui emergeranno sempre corridori in grado di che sono abituati a vincere grazie a tutti grazie a tutti